Il Covid-19 ferma anche la maratonina rinviata al prossimo dicembre. La polisportiva Policiano, dopo il successo dei campionati master della scorsa settimana, era infatti pronta ad affrontare l'ultimo grande impegno della stagione. La maratonina Città di Arezzo in programma per domenica 25 ottobre, un classico dell'atletica locale ma che nel corso degli anni si era guadagnata il palcoscenico nazionale ed internazionale. L'impernata dei contagi registrata negli ultimi giorni hanno fatto però adesso optare gli organizzatori per il rinvio al prossimo 19 dicembre, una decisione maturata dopo due giorni di confronti con le autorità competenti, prefettura, questura, polizia locale e comune. Il consiglio direttivo della polisportiva Policiano, vista la situazione particolarmente critica dell'epidemia, soprattutto nella provincia aretina, ha così deciso di far slittare l'appuntamento con la maratonina Città di Arezzo. Le iscrizioni già fatte rimangono comunque tutte confermate e congelate per il periodo in cui si potrà finalmente svolgere la gara.